amici del calcio europeo ben ritrovati con una nuova puntata di euro gol con tutto il meglio che c'è dal calcio internazionale io sono giacomo astrumarino e ho il piacere di dare il benvenuto in studio a uno dei miei due fedelissimi compagni di viaggio quadro di natale benvenuti studio claudio grazie jack buongiorno a tutti salutiamo ale che purtroppo non ha potuto raggiungerci per un impegno sono tornerà ma tornerà promettiamo ai cari amici che ci seguono cari amiche che ci seguono che tornerà molto molto presto comunque claudio abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare per il calcio estero per il calcio internazionale partendo come nostra con solitudine da una premier league claudio che finalmente si è conclusa alla fine del siti trio fa quarto titolo consecutivo per pepe guardiola che diciamo sta letteralmente scrivendo ha letteralmente scritto perché insomma ancora non incontrato ma vedremo che cosa farà ma insomma è entrato nella storia di questo club si è assolutamente una vittoria meritata per quello che si è visto dalla primavera in avanti soprattutto una macchina stiacciassassi che magari ci aspettavamo già da dall'autunno si è vista invece a pieno a pieno regime nelle ultime partite nelle ultime nove vittorie consecutive segnalo se non sbaglio quattro gol di media partita quindi esatto un dominio incontrastato arsenal e soprattutto liverpool si hanno perso qualche punto di troppo avrebbero potuto forse avrebbero meritato anche loro di alzare il titolo ma il sito è stato nella parte calda nella parte decisiva la squadra più continua alla fine l'esperienza e forse anche la profondità della rosa non ha giocato un ruolo importantissimo per guardiola che conquista il trentatresimo titolo della sua carriera il sesto vinto in soli sette anni abbiamo detto il catalano sta battendo ogni record per gli sky blues però non è riuscito a vincere l'FA cup che va sorprendentemente dire al manchester united tredicesimo tredicesima coppia nazionale per la squadra di tenaf che verosimilmente lascerà a fine stagione che partita è stata claudio non so come tu l'abbia vista jack ma ho visto un city quasi scarico poco motivato dopo la vittoria della premier e dopo anche la grande delusione della champions league quindi io l'ho visto proprio come un city sia come individualità sia come gruppo poco interessato quasi a vincere questa coppa concordo claudio mi trovi d'accordo più che altro si dice spesso che le finali sono un contesto a parte rispetto al resto del campionato rispetto al cammino che una squadra può fare in e 38 giornate se è vero che nei momenti decisivi dipende un po anche come il giocatore arrivano anche nell'approccio mentale alla partita diciamo che il city o non era troppo interessato a vincere questa competizione evidentemente era troppo scarico dei festeggiamenti per il campionato una partita dove gli uomini principali gli uomini chiave che hanno trascinato guardiola nella vittoria di questa premier league erano completamente spenti da foden a kevin de bruyne non gli è scesa la lampadina holland ha colpito una traversa ma non è la prima volta che stecca negli appuntamenti importanti e tra l'altro ho a breve una domanda provocatoria da da farti proprio in merito a darling holland però insomma una squadra abbastanza spenta menito di questo va dato lo united evidentemente ha trovato le energie no ha tinto le energie giuste per insomma vincere portare a casa un trofeo che mancava da tanto comunque a casa dei re devils di sandro martinez super e soprattutto prestazione fondamentale anche di garnaccio e di mai no di quei 19 anni mattatori esatto mattatori primi teenager a decidere una fa cup quindi insomma merito va anche allo united di tenato che è tra l'altro verosimilmente non rimarrà no tra probabilmente nonostante il trofeo un trofeo comunque da un senso a questa stagione del manchester united che è entrato in campo come doveva entrare in una finale come doveva entrare in un derby in finale ha vinto a mio avviso anche meritatamente soprattutto per un ottimo primo tempo e giocato sì il city non ha giocato certo la sua miglior partita ma lo united appunto vince con merito da un senso un minimo senso a una stagione alimentare l'ennesima stagione alimentare merita lo united sul city abbiamo speso parole al miele la domanda provocatoria che volevo farti è ma non è che il city ha un gioco che non è troppo conforme alle caratteristiche di holland lasciando i numeri lasciando stare le statistiche un tuo pensiero secondo te il norvegese sta facendo più fatighi in un calcio molto pallaterra molto verticale rispetto invece per esempio a un calcio più difensivo quello che faceva dormond che gli permetteva di sprigionare la sua falcata e le sue cavalcate verso la porta secondo te ma in parte sono d'accordo non è solo il gioco del city ma proprio il gioco di guardiola storicamente lui ha inventato il falso nome usato avanti allo spazio quando arrivò il miglior centravanti dell'epoca barcellona cioè slatan ibrahimovic non nacque mai l'amore seppur i numeri a vero quel blaugrana di brevi ci sono ottimi così come quelli di aland aland statistica parte perché le statistiche danno ragione al norvegese a guardiola non ha mai brillato soprattutto nei momenti decisivi quando il city vince con 45 gol di scarte con squadre sulla carta piccole aland magari ne fa due tre gioca si diverteva negli spazi fa anche giocate nello stretto in area di rigore smaglia raramente avanti alla porta quello non si può dire niente pecca molto per ora ha peccato molto per quanto riguarda sia il gioco sia le prestazioni sia i numeri nel momento in cui il city va a affrontare squadre di pari livello nella champions vinta l'anno scorso alanda non è mai stato protagonista nella fase eliminazione diretta anche con l'inter in finale ha faticato molto una squadra che si chiudeva bene quest'anno a maggior ragione ha avuto anche qualche problema fisico nella parte chiave della stagione europea proprio malpiede che ha tenuto fuori un bel cao tra 23 e 2024 esattamente non ha altrettanto brillato poi con con il real madrid quindi qualche problema c'è di sicuro sono altrettanto sicuro che guardiola saprà trovare delle soluzioni perché l'anand che segna di fatto la partita nelle partite di premier link o anche con squadre meno forti in champions league sono convinto possa farlo anche nei momenti chiave deve crescere deve crescere il gioco anche di guardiola per legare un centravanti straordinario esatto il problema forse è tattico anche dal momento che con un concentravanti come holland immaginiamo venga studiato attentamente prima di una partita decisiva venga marcato quindi magari nelle partite minori riesce a fare la differenza per il suo strapotere fisico d'altro canto per le partite invece principali magari è proprio il fatto che venga marcato che libera a sua volta i Foden e quindi può essere comunque un aspetto anche in quel senso anche se chiaramente il norvegese viene oscurato chiudiamo la partita di city abbiamo un piccolo messaggio della ciala d'arteta che ci guarda da casa che purtroppo 89 punti è riuscito a collezionarli ma non sono bastati dalla vittoria di un titolo che manca casa dei ganners da vent'anni oramai avversetto mi ha sossegnano vincono contro l'everton ma non è sufficiente per insomma superare il city si usa manca questa squadra per poter arrivare sul tetto d'inghilterra ma è senza dubbio degli avversari fortissimi quindi non è per niente facile il percorso dell'arsenal secondo me quello intrapreso dalla società dalla squadra dall'allenatore è ottimo avevo già speso parole di elogio una scorsa puntata deve continuare così magari con un altro paio di acquisti come qualunque società in premier non ha problemi in fatto di mercato in fatto di spesa quindi sono sicuro arriveranno dei rinforzi continuare con questo gruppo con questo allenatore con questa idea societaria e secondo me nei prossimi anni trofei arriveranno di conseguenza hai detto 89 punti arteta pensare una piccola parentesi non sono bastati 99 punti esattamente al senerva c'è per strappare il titolo al galatasaray che ti punti ne ha fatti 102 quindi c'è chi sta peggio c'è chi sta peggio e tra l'altro ha fatto tantissimi punti anche il liverpool no qualche anno fa pure esattamente il paragono ci sta a dobbiamo fare anche qui comunque commovente addio di club che lascia lo scettro della panchina del liverpool a darne slot anche qui non so se c'è un commento vedremo come l'olandese si adatterà abbiamo parlato tanto la stagione non si è conclusa nel migliore dei modi soprattutto non tanto per il campionato che anche era difficilissimo mantenere i ritmi di city arsena forse più per una partita in casa con l'atalanta di europa league lì il liverpool avrebbe potuto fare meglio e si sarebbe potuto giocare un trofeo europeo per chiudere al meglio la sua avvenzione non cancella la fantastica stagione di club la panchina di rete esatto l'amore per i tifosi che se visto è intatto e lo rimarrà anche negli anni a venire ne ha dato l'assist perfetto proprio per parlare di atalanta e dunque chiudere la parentesi della premier league e aprire quella dell'europa league perché abbiamo celebrato tante volte l'atalanta insomma si sa il gioco di gasperini offensivo verticale che produca comunque tante occasioni da gol diciamo che c'è stata l'apoteosi forse nella serata di dublino scusami con allo stesso tempo l'everkusen che forse incappa nella serata sbagliata sai che non era davvero la partita per gli uomini di cia bialonso che escono comunque testa alta da una finale che non gli ha visti i protagonisti ma da una stagione che comunque gli ha visti in tronfare un commento sulla partita per iniziare claudio hai detto tu tanto l'atalanta ha giocato la partita perfetta il liver il l'everkusen ha giocato forse una delle peggiori partite dell'anno la chiave secondo me è stata il fatto che l'atalanta ha giocato come di consueto quasi uomo su uomo pressando tantissimo e questo ha messo davvero in crisi l'everkusen che è andato in bambola si nei primi minuti non riusciva a creare perché con la partenza dal basso lo smarcamento dei quinti che non sono proprio quinte sono quarti però sono comunque esterni altissimi altissimi non è riuscito a creare il gioco che siamo abituati a vedere questo pressing asfisseante dell'atalanta organizzatissimo ha messo in crisi ciammi rosso secondo me la chiave è stata proprio lì non so se tu abbia un'analisi ulteriore su quale sia stata la chiave della partita ma a mio avviso è stato proprio il fatto che l'atalanta è imbrigliato sin dall'inizio e sin dai primi passaggi in l'everkusen ma allora guarda per rispondere alla tua domanda Claudio e addentrarci all'interno dell'analisi possiamo fare un parallelismo tra la Fiorentina che ha perso ai noi la finale di Contra Ezingo contro l'Olimpia una squadra che ha sempre giocato bene ma che è entrata in campo forse non con quella convinzione che avrebbe dovuto esserci per scardinare insomma gli schemi dei greci qui è successo esattamente l'opposto cioè io credo che innanzitutto la differenza sia stata nell'approccio mentale l'Atlanta è scesa a Doblino in campo per non solo vincere la partita ma per letteralmente far paura alle percuse nel pressing così alto addirittura estremizzato se vuoi rispetto agli standard visti nel campionato di Serie A di quest'anno ha evidenziato comunque una squadra che aveva un'idea ben precisa quella di andare a prenderli alti indipendentemente dei rischi che potevano prendersi e questo è comunque un rischio che devi correre in una partita secca e che Gasperini in primis e i suoi giocatori perché l'hanno seguito hanno avuto il coraggio di fare e questo è sicuramente un merito che va dato all'allenatore piemontese in primis così come giocatori quindi l'approccio mentale in primo luogo perché senza quello non li vai a prendere così alto poi credo che sia stata anche una differenza in termini individuali abbiamo celebrato tanto Lukman e comunque i giornali in India hanno celebrato tantissimo Lukman per la tripletta io vorrei fare un sacco di complimenti a Colasina che senso è stato fondamentale non stricivo il caso comunque ha chiuso qualsiasi forma di ripartenza che quando Leverkusen riusciva a uscire palla al piede nonostante il pressing dell'Atalanta con una triangolazione con Grimaldo lo stesso Wirtz che si abbassava molto tutte le verticali venivano puntualmente intercettate dall'ex Arsenal che secondo me ha giocato una partita mostruosa all'interno del fatto che ha dovuto uscire ma Massa Scalvini è entrato benissimo quindi secondo me c'è da fare tanti elogi anche per quanto riguarda l'aspetto difensivo che non è da sottovalutare ma no anche Iene è stato perfetto in marcatura anche sui giocatori molto veloci molto rapidi però fatico a trovare un giocatore dell'Atalanta che non abbia non abbia giocato alla perfezione o molto vicino alla perfezione tutti hanno interpretato benissimo chi è entrato ha mosso portiere di coppa agli attaccanti con un brivido a un certo punto esatto comunque ha tenuto bene anche Scamacca non ha segnato ma servito un assist è riuscito a creare a tenersi la squadra io ho visto proprio l'Atalanta feroce quello che è mancata Leverkusen come devi giocare una finale esattamente esattamente che è la differenza che c'è stata tra i vergamaschi e la Fiorentina fondamentalmente nell'approcciare mensalmente un appuntamento così importante e cosa c'è da dire a Leverkusen d'altra parte Claudio perché sia approccio mentale non ha funzionato nulla non so se secondo te non se l'aspettavano non so se secondo te hanno sottovalutato la gara non so se erano forse appagati dei festeggiamenti questo in realtà è il pericolo è che potevano correre i tedeschi potevano correre le sperine aver vinto un campionato così sì però così tanto anticipo secondo te no può valere per il city che vince la premier ha vinto l'anno scorso la Champions League e snobba la coppa per un Leverkusen non abituato a vincere giocatori che non hanno mai vinto una finale di Coppa Europea non penso l'abbiano sottovalutata e non si può dire neanche che Ciamino Unso possa essere stato sorpreso dal gioco dell'Atalanta perché Gasperini non ha inventato nulla per la finale Atalanta gioca spesso così ha giocato così con un pressing alto corrento tantissimo è stata fortunata anche a trovare due gol in avvio che hanno messo la partita in discesa nel primo tempo probabilmente Ciamino Unso si può criticare l'Averkusen e Ciamino Unso per non aver trovato un piano B per uscire da questo questo è un'osservazione per non aver magari messo subito un attaccante su cui si potesse lanciare mentre ha giocato a tutti con i giocatori brevi linei non adatti a tenere sul pallone contro la squadra fisica contro la squadra i difensori fisici quindi l'unico modo per uscire per creare era costruire dal basso la costruzione dal basso era davvero resa difficilissima dai Bergamaschi dunque l'unica pecca secondo me l'unico neo in cui si può criticare Ciamino Unso per la finale forse anche un po' per tutta la stagione è stato quale non aver saputo disinnescare il gioco dell'Atalanta il pressing dell'Atalanta che fa sorridere da parte di un allenatore e lo abbiamo visto sui social che si arrabbiava questo giocatore veramente in cui ricorda un lancio lungo questa partita voglio dire che avrebbe potuto essere la soluzione per la finale qualche palla lunga anche perché come hai detto tu comunque giocatori insomma prestanti fisicamente non è che ne abbia così tanti per cui almeno là davanti per poter giocare palalta lo stesso che si predilige col ballone tra i piedi l'unica cosa è che ecco secondo me un'altra chiave è stata il fatto che l'Atalanta ha giocato contro una squadra cugina gemella se vuoi per modo di giocare sarei stato molto più preoccupato se i Nerazzurri avessero beccato una squadra più difensiva più forte più corta anche negli spazi avrebbe potuto mettergli un pochino più difficoltà il fatto di incontrare una squadra che gioca allo stesso modo che giocava allo stesso modo secondo me gli agevolati no perché anzi lì vinceva chi aveva più voglia di usare aveva più risorse più benzina da spendere e ha premiato comunque l'Atalanta che insomma riporta la famosa coppa UEFA in questo caso l'Europa League in Italia Leverkusen nonostante tutto bisogna dirlo comunque Claudio che ha fatto il doblete perché ha vinto la coppa ha vinto la coppa di Germania contro il Kaiserslautern anche lì non brillando tantissimo ma anche l'uomo meno ha fatto la differenza comunque ha vinto meritatamente anche la coppa allora vedremo comunque con Ciavellozzo che ha già detto largamente di rimanere sulla panchina delle aspirine anche la prossima stagione vedremo se Leverkusen saprà ripetersi ma una cosa è certa Claudio potrai confermare anche tu le carte regola per poter rifare una stagione del genere almeno in Europa ci sono tutte il Bayern si rinforzerà ha preso company sì di sicuro secondo me la società premierà la grande stagione con almeno un paio di acquisti di alto livello e anche di alto esborso esatto così per essere più competitivi insomma non possiamo far altro che attendere la prossima stagione per vedere che cosa combinerà il Bayern e le Vecuse da una finale all'altra perché abbiamo parlato di Europa League abbiamo parlato anche di Conference League l'abbiamo accennata poc'anzi qui l'esito è un pochino più amaro per il calcio italiano perché la Fiorentina perde una brutta finale perde male senza dubbio contro l'Olympiakos non riesce ad esprimere il suo calcio italiano non riescono ad esprimersi i giocatori stessi nella finalissima di Atene ok l'Olympiakos giocava in casa ma è meno giustificabile può essere rispetto ad altre sconfitte rispetto a quelle avvenute contro l'Inter in Coppa Italia per esempio l'anno scorso che partita è stata ad Atene Claudio partiamo da qua ma una Fiorentina che ci ha abituato a giocare in maniera spregiudicata bene in attacco, male in difesa l'italiano forse proprio per questa ragione ha luce anche nelle due finali ha perso proprio giocando con la difesa alta in maniera spregiudicata ha giocato totalmente l'opposto snaturando totalmente la Fiorentina bassa, tantissimi lanci lunghi verso attaccanti che non sono riusciti mai a tenere sul pallone pochi guizzi degli esterni la partita di Nico Gonzalez forse è finita alla prima azione dopo che ha fatto una giocata bellissima è riuscito a tribolare sull'esterno a mettere dentro un pallone e poi è totalmente scomparso da campo così come anche gli altri esterni con E ha avuto un'occasione la ciabastanza giusto nel finale dopo che aveva segnato l'Olimpio Koss Arthur e Mandragora non hanno dato le solite geometrie le solite palle in verticale e la difesa abituata comunque a giocare verso l'attacco alta è stata massa sì, non ha praticamente mai rischiato la Fiorentina ma arrivati i supplementari stanchi basta una palla in mezzo e così è stato e fa male prendere quel gol così perché giochi con la difesa alta l'anno scorso perdi qui proprio giocare un pochino più basso quasi più timido contro una squadra terza nel campionato greco che oggettivamente era più che alla portata della Fiorentina e prendi gol è difficile giustificare insomma una prestazione deludente soprattutto l'atteggiamento si è parlato anche in questi giorni del fatto che Tagliano abbia un pochino snaturato il modo di giocare cosa sarebbe stata assolutamente lecita contro una squadra 3 spane superiori per il timore certo di prendere un'imbarcata giochi contro il Real Madrid giochi contro il Paris Saint-Germain il Bayern Monaco il City in una finale e giustamente termina era la pari ma probabilmente anche superiore sulla carta sulla carta superiore io però Claudio vorrei porre un attimino un accento su un aspetto che insomma è stata sempre un po' un neon un po' una piaga di questa squadra sin all'inizio della stagione l'attacco perché guardando anche le statistiche di questa squadra di Serie A il miglior marcatore Renico González con 11 gol al secondo posto c'è Jack Bonaventura con 8 al terzo posto il Vichingo Beltran con 6 poi abbiamo in ordine Martinez Quarta con 5 reti Icone con 3 Mandraguana con 3 gol in Serie A miglior marcatore della Conference League quest'anno è stato proprio lo stesso Beltran con 4 gol l'anno scorso Arthur Cabral prelevato dal Basiliac e poi ceduto al Benfica aveva segnato 7 gol nel 2022-2023 insomma la mancanza di un'alternativa davanti Velotti non ha visto pallone né durante la finale né durante comunque tutto il girone di ritorno prelevato dalla Roma a gennaio insomma è un problema di questa squadra l'incapacità di saper finalizzare e capitalizzare le tante occasioni create ieri anche Buonaventura si è mangiato in avvio in avvio se vuole è un problema comunque che questa squadra non ha mai debellato durante tutto l'anno se questo aggiungi la mancanza di gioco in finale ecco il risultato ma proprio gli attaccanti acquistati nella stagione nel calcio mercato estivo Anzolan-Beltran hanno deluso Beltran forse un po' meno poi è stato trasformato nella seconda parte di stagione in un trequartista nel 4-2-3-1 e non ho capito sinceramente la sua esclusione per quasi tutta la partita è entrato a supplementare in corso è riuscito anche a smistare un bel pallone per Iconè dopo l'1-0 dell'Olimpiakos ed è stato senza dubbio il migliore attaccante della stagione alla Fiorentina escluso per 5-10 minuti nella partita più importante dell'anno questa scelta sinceramente non l'ho capita Anzolan-Fantasma Belotti ha deluso fin quando è rimasto in campo ma è largamente in fase calante possiamo dirlo senza dubbio che hanno tenuto in piedi l'attacco della Fiorentina nel corso della stagione sono stati appunto da te citati i vari Nicolo González Buonaventura Sottila sempre giocato bene quando chiamato in causa Cuamè appena sufficiente generoso ma poco in fase realizzativa tutti questi citati hanno deluso ampiamente nella finale uniti agli attaccanti che hanno confermato la loro scarsa venia realizzativa mantenuta durante l'anno il risultato che la Fiorentina se non con un paio d'occasioni in avvio non va mai vicina a un gol un colpo di testa di Milinkovic nel secondo tempo d'angolo e poco altro fa male questo fa male questo perché era una squadra alla portata contro la Fiorentina che all'interno dei problemi in fase realizzativa poteva assolutamente giocarsela e soprattutto abbiamo parlato d'attacco parliamo di difesa c'era forse un giocatore da dover tenere sotto d'occhio per quanto riguarda l'Olimpico si riduce da una straordinaria tripleta contro l'Astro Villa il Marocchino e il Cabi che è stato tenuto benissimo al 115 alla fine quando il disimpegno di Ranieri è costato di fatto una competizione che adesso la Fiorentina proverà a quantomeno insomma senza dubbio tra le favorite senza italiano verosimilmente forse palladino si parla sulla pantina dell'Andrea però non abbiamo certezza con questa domanda che a te ne parlavamo prima di entrare in studio secondo te esce un po' ridimensionato italiano da questa finale italiano si è stato sempre criticato per la sua fase difensiva ha provato a sistemare questa pecca snaturando la squadra e questo l'abbiamo detto c'è da dire che sono anche le sue prime esperienze in carriera di partite finali europee quindi non stiamo parlando di un allenatore di 60 65 anni che arriva a giocare la sua decima finale e la gioca così ne parliamo di qualcuno che di finali esperti tra poco tra le altre cose esattamente allora sì sarebbe senza dubbio ridimensionato sarebbe senza dubbio da criticare è comunque un allenatore che ha portato una Fiorentina che ha vinto il trofeo dal 2001 a giocare tre finali in due anni ha portato una Fiorentina senza nomi e acquisti esagerati a esprimere un bel calcio a stare ampiamente tra le prime 7 e 8 del campionato italiano quindi sì in parte ridimensionato proprio per il fatto di aver alzato vedo due trofei ampiamente alla portata cioè le due finali di conference però senza dubbio positiva la sua esperienza a Firenze se dovessimo valutarla numericamente darei un 7 pieno anche io mi trovo d'accordo comunque anche un 7 più per il fatto di aver riportato entusiasmo per il fatto comunque di aver saputo valorizzare oltre a alcuni giocatori anche il gioco di una squadra che non ha mai lottato per i vertici del campionato di Serie A comunque nell'ultimo triennio ma è stata comunque capace di offrire un bel calcio la speranza che ho io anche facendo un paragone con la squadra di cui abbiamo parlato poco fa ovvero l'Atalanta anche Gasperini ha perso tre finali esatto prima di arrivare alla quarta a Dublino il 22 maggio scorso che è riuscito a conquistare chissà se è il calcio perché sa essere generoso anche così è questo sport che tanto toglie tanto dà soprattutto e chissà se ci sarà comunque un'altra chance per l'Italiano magari al Bologna sarebbe clamoroso una cavalgata in Champions la prossima stagione ma vedremo insomma vedremo anche la Fiorentina con Paladino con un nuovo allenatore insomma cosa sarà capace di combinare sul piano europeo chiudiamo la partita di Fiorentina allora abbiamo parlato della prima finale di Europa League della seconda finale di Conference League manca Claudio manca la finale esatto articolo determinativo per la finalissima di Wembley Londra dove si sfideranno domani domani sera il Dortmund di Terzis e il Real Madrid del solito immenso Carlo Alcelotti lui sì che è esperto di finale con un'esperienza ventennale oramai questo sport ne ha viste di colte e di crude partiamo dalla presentazione della partita Claudio come vedi tu la finalissima di Wembley voglio sapere se vedi un Real nettamente favorito o se dai qualche chance al Borussia Dortmund sulla carta per esperienza per storia per valore in campo e per allenatore non dovrebbe esserci partita ma non vedo un Dortmund così battuto l'entusiasmo la grinta la corsa che sono le caratteristiche che hanno reso il sogno finale realtà per i gialloneri sono le chiavi che dovranno portare in campo anche domani sera certo Real non sono io a dirlo ma anche secondo me parte favorito assolutamente favorito però non così tanto come tante tante persone anche secondo me fanno passare ecco sai che anche secondo me ma più che altro per un discorso vabbè oltre che di appagamento anche se a Real Madrid non si può parlare di estrappagati perché vivono per la vittoria sono stati costruiti fabbricati realizzati per poter tanti giovani esatto tanti giovani comunque giocatori esatto singolarmente ambiziosi avanti di poter vincere Dardagoulère fino ad arrivare comunque allo stesso Bellingham prima finale in casa tra l'altro contro Ex esattamente hanno vinto motivazioni motivazione anche per i singoli quello che secondo me potrebbe essere una chiave della partita saranno gli esterni nel senso che mi aspetto da un allenatore esperto come Tertic che ha assangiamente preparato la partita contro il Paris Saint Germain io mi aspetto che riesca ad arginare comunque le falcate di Vinicius per esempio di Rodrigo che sappiamo essere attaccante mobile ma soprattutto Vini perché il brasiliano ha fatto sfracelli contro il Bayern di Monaco contro la difesa balneare che si è sciolta di fronte alle imbucate verticali di cross per lo stesso Vinicius mi aspetto un Tertic che comunque saprà bene arginare gli esterni mi aspetto che costruirà molto bene la partita a livello tattico e non per forza quello di partenza secondo me perché il Dortmund comunque con le sgazzette di Sancho con l'interdizione di Massen di Emre Can fondamentali secondo me saprà tenere botta quindi in primo luogo gli esterni e di conseguenza secondo me si giocherà anche molto sulla freddezza sulla capacità di osare e mi aspetto una grandissima partita dal mio pupillo Niklas Kuhlkrug da cui mi aspetto davvero tanto non so tu come vedi la chiave della partita Claudio gli esterni senza dubbio qua anche qui non sono il primo a dirlo ma saranno fondamentali squadre che puntano tantissimo se devo vedere un duello dico quello tra Rirson e Vinicius che si abbiamo visto che gioca tanto al centro ma prediligerà giocare sulla sinistra Rirson che possiamo dire uscito vincitore anche dal doppio duello con Mbappé si l'andata Mbappé ha giocato centramanti ma il ritorno al parco dei principi Mbappé spostato sulla sinistra arginato bene devo dire dal norvegese un buon giocatore e si troverà forse l'altro esterno più forte al mondo dopo Mbappé che è Vinicius quindi quello sarà fondamentale e devo valutare un'altra chiave più come duelli l'attitudine che avranno i tre trequartisti del Borussia Dortmund al sacrificio che sarà fondamentale perché il Real gioca con tre centrocampisti mentre il Borussia ha due sarà fondamentale che gli esterni riescano a tornare a dare una mano al reparto difensivo del Borussia quindi quanto saranno in grado di sacrificarsi io sono convinto che lo faranno e bene perché la chiave del Borussia per cui è arrivato così avanti in questa competizione è stata proprio quella di essere un gruppo giocatori come Adeyemi Sancio che per varie vicissitudini per essere loro giocatori volubili altalenanti non hanno mai reso così bene forse Terzic gli ha dato le idee le motivazioni necessarie per riuscire ad arrivare a giocare a questo livello e a spendersi così tanto per la squadra per la maglia quindi questo sarà la seconda chiave io sono da quello con te infatti guarda voglio ripilogare e voglio essere chiaro e specificarlo secondo me è proprio la luce di quello che hai detto tu Claudio Vinicius e lo dico qui e mi prendo la responsabilità della Sheastorm che mi arriverà a seguito di questa affermazione secondo me Vinicius giocherà una partita opaca proprio perché mi aspetto che Terzic saprà con i suoi condimenti tattici arginarlo quanto possibile chiaramente parliamo di un fuoriclasse ma mi aspetto comunque una partita non semplice bravissimo bravissimo esatto non mi aspetto una partita facile per Vinicius come del resto non è stata facile la partita di Mbappé sia l'andata che a ritorno al Parco dei Principi quindi una partita opaca per quanto riguarda gli esterni e d'altra parte una sfida che si giocherà in altre zone di campo oltre che ovviamente l'aspetto mentale mi aspetto soprattutto una grande disponibilità al sacrificio da parte anche degli attaccanti c'è anche da dire una cosa il Real Madrid si è rivelata essere una squadra capace di adattarsi alle situazioni del gioco in ambo le fasi di fare la partita che difende si è iniziato a Monaco di Baviera difendendosi e non ha dato il vantaggio nel secondo tempo ha continuato ad attaccare rischiando poi perché ha dato il pareggio dei bavaresi io invece non so al netto della preparazione tattica che farà Terzic della partita io non so quanto il Dortmund sarà altrettanto bravo ad adattarsi ad entrambi le fasi di gioco secondo me sarà quella una chiave perché individualmente secondo me hanno entrambi le squadre mille motivazioni e veramente sono convinto che il Dortmund non sia così inferiore al Real non sarà inferiore al Real domani sera non so quanto sapranno interpretare bene entrambe le fasi degli indici in campo ecco la Madrid lo trovo superiore proprio in questo saprà accelerare saprà difendersi con linee cortissime saprà arginare fisicamente Fulcrug a un connazionale che lo marcherà domani sera ovvero Tony Rudiger e secondo me si giocherà molto il Torino non so quanto sarà bravo il Dortmund allungarsi nell'accorciare velocemente vedendo gli ubi invece i nomi che scenderanno in campo 21 paiono certi l'unico dubbio forse rimane quello del portiere del Real anche se al momento sembra Courtois favorito su questo è fatto fuori dagli europei dagli europei si dice poi dichiarazioni dello stesso Courtois recenti hanno detto che il City del Belgio non ha dichiarato la verità ma il capitolo europei a parte domani probabilmente scenderà in campo Courtois chi fai giocare secondo te la scelta giusta l'unico ha portato il Real fin qui perché poi gli altri 21 da entrambe le parti sembrano scontati non ci sono almeno non vedo altri ballottaggi secondo te il giusto che un portiere che ha giocato fino a questo momento poi venga soppiantato una partita più decisiva da un nome da un giocatore che ha l'esperienza ha capacità notevoli ha giocato tante partite del genere stona un post partiva dal presupposto che era il Madrid comunque giocatori straordinari non esistono per certi versi di riserve io credo che siamo realmente giusto per il portiere ucraino l'unin disputare questa finale perché alla fine è stato lui a portare il Real Madrid possiamo addentrarci anche in un discorso che esula della finale di Champions ma che può riguardare anche il discorso nazionale italiana e lo dico indirettamente facendo giocare comunque Courtois perdi un po' la fiducia del ragazzo non dico lo spogliatoio perché è come dire convocco i fagioli lascia a casa Locatelli titolare un po' ti bruci il ragazzo perché giustamente si può chiedere ma perché ma questo è comunque un discorso a parte che faremo nella prossima puntata quello dedicato alle nazionali c'è entra come paragoni il punto è Luling Luling ti ha portato lì lasciato fuori nel momento più importante sia forse peccato sulla punizione esatto l'unico errore se non sbaglio l'unico errore e per questioni anche di meritocrazia sono d'accordo con te avrei fatto giocare Luling che poi è ancora un dubbio è ancora l'unico valutaggio forse sì Courtois le sue serate le ha già vissute e poi c'è anche da dire una cosa alla fine noi non siamo allenatori un po' calcio abbiamo giocato seppure ai nostri livelli diciamo dilettantistico però insomma conta anche come stai in campo come sei in campo questo è anche il giocatore più forte del mondo se non tocchi miglia da un sacro di tempo a maggior ragione per il ruolo del portiere che è particolare lo dire attività esplosività muscolare o sei messi lo metti in campo anche se a mezza gamba rotta ma altrimenti per un portiere importante anche la reattività immagino è l'essere abituato comunque al campo Luling oggi vedi più sì Courtois ha giocato qualche partita nel finale di stagione ma partite oltretutto che non avevano particolare significato poiché il Real ha vinto il campionato esatto quindi sì sì alla fine sarà comunque il campo a dare ragione o torto a Nancelotti chiaramente dalle scelte che farà io non so se bilanciar gioco i pronostici proviamo proviamo come finisce Borussia Dortmund e Real Madrid in programma domani sera a Wembley me ne segno anche questo chiaro poi non riguardiamo mai i pronostici però alla fine me li segno comunque allora io dico un 2-1 per il Real Madrid con ti dico anche i marcatori essendo l'unica unica partita finale dico gol del Bellingham che finalmente dopo dei quarti delle semifinali opache torna il Bellingham visto in Liga miglior giocatore della Liga da ex segna e ti dico Vinicius Vinicius che nonostante gli accorgimenti raddoppi il marcatore un gol lo fa e Borussia un gol lo vedo un gol che di mezzo allo svantaggio ma inutile in mischia su punizione angolo ti do full club con la marcatura quindi il Real la quindicesima la quindicesima sì esattamente esattamente la Champions numero 15 quindi tu dici 1-0 Real 2-0 Real vedo anche anche l'ordine dei gol anche l'ordine dei gol va bene allora io dico un pochino più esotico allora dico 1-3 per il Real Madrid quindi anche tu vince la Coppa dei Campioni vince la Champions League ti dico apri le marcature il Real con è un nome che ho fisso in testa da qualche giorno mi ha togliato Lucas Vázquez ma perché ti dico questo perché siccome mi immagino gli esterni molto bloccati mi immagino che la sblocchi un giocatore che non ti aspetti magari con una palla che rimbalza che calcia da fuori oppure su una chiusura su un secondo palo su un cross insomma mi aspetto Lucas Vázquez ad aprire le marcature mi aspetto il raddoppio di Jude Bellingham anche io lo vedo protagonista a casa sua a Londra contro la squadra avrà mille motivazioni ha sempre giocato bene comunque nei partiti importanti penso ai classicors contro il Barcelona si si ha peccato solo proprio le eliminazioni dirette nei quarti e secondi avrà recuperato immagino che sia bello gasato e farà il 2-0 accorcia le distanze il Borussia Dortmund su calcio di rigori mi immagino un fallo sul marcatore è difficile perché l'ultimo rigore in Champions lo ha calciato Royce ai gironi contro il Milan si è andato a volte Sabitzer soprattutto Emreciano ma mi aspetto Emreciano comunque dagli unici più esperienza esatto 3-1 finale mi aspetto mi aspetto Rodrigo contropiede mi aspetto Rodrigo in contropiede che comunque la chiude a circa 15 minuti dal fine è la madre che porta a casa la Champions League numero 15 della sua storia chiederemo anche Ale poi chiederemo anche Ale faremo sapere l'opinione di Alessandro Sfiniello in merito alla finalissima a questo punto Claudio direi che siamo siamo in fiusura non ci resta che guardarla non ci resta che guardarla esatto non ci resta che guadirci lo spettacolo noi comunque ci troviamo settimana prossima per discutere dell'effettivo esito della finale oltre che per cominciare a tuffarci nell'atmosfera di Euro 2024 ci siamo ormai tra due settimane si parte con Germania-Scozia prima partita in programma il 14 di giugno noi saremo qui a commentare un pochino le convocazioni saremo qui a commentare tutto il pre che ci accompagna con questo meraviglioso appuntamento nel mese di giugno e nel mese di luglio grazie Claudio De Natale per essere stato in studio con me grazie a te questa volta e allora come detto noi ci vediamo la prossima settimana con Euro goal tutto meglio che c'è dal calcio internazionale ciao ciao